Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi un nuovo prodotto che ci arriva come sempre dall'azienda Friendly Sweet come vedete qui c'è proprio il logo che identifica l'azienda questo prodotto è molto molto bello e può essere anche regalato visto che siamo ancora nel periodo natalizio può essere anche fatto come regalo a un'amica perché veramente risulta molto comodo e devo dire anche dal design molto molto bello ed elegante allora nella scatola che vedete ci sono 4 pezzi, si tratta di 4 infusori come vedete il design è veramente molto molto bello sono tutti in acciaio inox, hanno una lunghezza di 17 cm e la particolarità di questi infusori è data dal fatto che per l'inserimento del tè o della tisana ha un particolare ingegno praticamente si deve semplicemente cliccare qui sopra si apre come vedete possiamo posizionare qui all'interno il nostro tè o la tisana quello che noi vogliamo e basta rilasciare sopra e l'ingegno è pronto praticamente si chiude mantenendo all'interno quindi il nostro tè la nostra tisana che andremo poi a mettere nella nostra tazza in questo modo e contemporaneamente potremo usarla anche per mescolare meglio quindi un doppio utilizzo però non è che si può utilizzare solo con questa tazza in effetti si adatta a tutti i generi di tazze ecco questa un po' più piccola vedremo al suo interno andrà benissimo quindi anche un prodotto molto fine io lo uso molto quando arrivano le amiche ci piace chiacchierare davanti a una buona tazza fumante di tè o di tisana ci rilassiamo e godiamo anche diciamo di questo articolo così bello e particolare il prezzo non è eccessivo potete trovarlo su Amazon vi ripeto l'azienda è The Friendly Swede ciao alla prossima